Presidente D'Alfonso, in Abruzzo un'emergenza forse mai vista negli ultimi anni, maltempo, neve che paralizza i centri interni, fiumi esondati e poi le scosse di terremoto di questa mattina, una situazione davvero difficile da gestire. Intanto avevamo 200.000 utenze non servite da parte di Enel, abbiamo fortemente inseguito il gestore Enel per fare in modo, uno, che si riattivassero le centrali di alta tensione ad opera di Terna e questo è accaduto, le sei centrali sono state riattivate e poi si riattivasse anche la capacità distributiva di Enel. Enel da 200.000 utenze non garantite e servite è passata a 100.000, speriamo che nell'arco delle prossime ore, come hanno promesso, scenderanno a 40.000. Alla difficoltà di Enel, che è stata causata dalla difficoltà di nevosità pesante, ha fatto seguito anche una difficoltà di raggiungibilità delle strade che conducono ai paesi della collina o della montagna e su questo fronte noi stiamo organizzando il massimo di implementazione, di disponibilità di mezzi adeguati che possano rimuovere la neve. La richiesta di aiuto, per esempio, alle risorse umane dell'esercito, per aiutare la città di Chieti Centro Storico, per aiutare Atri, per aiutare Cellino Attanasio, per aiutare anche Castellalto, ma per aiutare anche i tre comuni particolarmente colpiti dal terremoto di oggi. Parlo dei comuni dell'Alto Aterno, Campotosto, Montereale e Capitignano. Abbiamo avuto la solidarietà di autostrade italiane, strada dei parchi, con due più due turbine che verranno messe a disposizione delle esigenze che ha l'Abruzzo circa la liberazione delle strade dalla neve. Così come ANAS, ANAS nazionale, ANAS dei compartimenti vicini, ci daranno ulteriori turbine. Noi dovremmo avere 6 più 6, 12 turbine nell'arco tra oggi e domani che manderemo a Montereale e Campotosto-Capitignano, che manteremo nella montagna Teramana, nella Valfino e nella Vallata Vestina, a Civitella del Tronto, nella montagna anche di Passo Lanciano e che faremo in modo anche che vada a supportare tutto ciò che in Abruzzo ha emergenza sul piano della neve. Presidente, per quanto riguarda il terremoto avete notizie di feriti nelle zone della provincia di Teramo e dell'Aquila? Grazie a Dio non abbiamo notizie di questa natura e speriamo che non ce ne saranno mai e mai più. Quello che abbiamo però sono notizie per esempio di cedimenti di strutture, di tetti che si sono appesantiti, di luoghi di lavoro che hanno avuto cedimenti, ecco questo è grave, ma siamo grazie a Dio liberati dal dolore della perdita di vite umane. In realtà lo Stato di Emergenza Nazionale è già stato chiesto dal Presidente D'Alfonso, verrà corroborato con i primi dati a disposizione della Regione Abruzzo e raccolti dalla Protezione Civile Regionale, regionale condensati, cristallizzati poi in un apposito atto di giunta regionale. Noi riteniamo che sia ora il tempo che da parte di Enel si metta mano seriamente a interventi e investimenti sul piano della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete. Né più né meno come annunciato nell'agosto del 2015, evidentemente questi interventi non stanno procedendo con il ritmo che invece la situazione merita. Un discorso a parte invece è il discorso di Terna, perché la maggior parte di queste 200.000 disalimentazioni, così come un gergo tecnico richiama Enel, derivano da guasti alla media, all'alta tensione e alla cabina di trasformazione. Grazie.